lunedì 17 ottobre dal vangelo secondo luca uno della folla gli disse maestro dia mio fratello che divida con me l'eredità ma egli rispose o uomo chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi e disse loro fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché anche se uno è nell'abbondanza la sua vita non dipende da ciò che gli possiede poi disse loro una parabola la campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante e gli ragionava tra sé che farò poiché non ho dove mettere i miei raccolti farò così disse demolirò i miei magazzini e ne costruirò di altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano ai miei beni poi dirò a me stesso anima mia hai a disposizione molti beni per molti anni riposati mangia bevi e divertiti ma dio gli disse stolto questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita e quello che hai preparato di chi sarà così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso dio l'appellativo stolto con il quale dio è apostrofa un uomo che ha cercato di accumulare per garantisci per garantirsi un futuro sicuro non è un'offesa nella bibbia questo termine viene indicato per descrivere il comportamento o comunque l'abitudine di chi non vive radicandosi nella legge del signore il giusto è colui che si radica radica la propria vita nella legge del signore lo stolto è colui che sceglie di piantare le proprie radici altrove allora scopriamo che dio con questa con questa parabola gesù ci fa capire la sapienza di dio siamo invitati a piantare le radici della nostra vita alla sua attorno alla sua parola alla sua legge e lì trarre quella sapienza per poter vivere ogni giorno qual è stato l'errore di fondo di questo uomo preoccuparsi del domani certo che no abbiamo l'intelligenza proprio per organizzare la nostra vita e poterci attrezzare e di tutto ciò di cui abbiamo bisogno e cos'è stato l'errore di questo uomo e fare delle progettazioni per poter migliorare la sua condizione nemmeno questo perché se chi è venuto prima di noi non avesse ragionato con questa lungimiranza noi non potremmo godere di tutti quei comfort di quelle migliorie che l'uomo d'oggi grazie a dio ha in abbondanza l'errore di questo uomo è stato quello di vedere tutto in funzione di se stesso e lo capiamo bene se facciamo una prova prendiamo il testo del vangelo e vediamo tutte le volte in cui appare il l'aggettivo possessivo mio miei quell'uomo lì si è messo al centro della propria vita e tutto era in funzione di lui mentre piantare le radici della propria vita nella legge di dio ti fa scoprire prima di tutti di essere figlio e quindi tutto tutto ruota attorno a un padre nel momento in cui tu ti scopri figlio vedi che l'altro è fratello allora anche tutta la lungimiranza tutta la provvidenza che nelle tue mani tutta la tua ricchezza vale è feconda nel momento in cui non è semplicemente per te ma è per un bene più grande la parola di oggi ci invita veramente ad allargare il nostro cuore non è una parola che ci invita alla paura non è una parola che vuole metterci il terrore di chissà che ad un certo punto la propria vita finirà su questa terra ma una parola che ci invita ad allargare il cuore a non tenerci chiusi noi stessi ma andare oltre allora che questa parola possa essere veramente per ognuno di noi cercare di arricchirci presso dio cioè di arricchire il nostro cuore della sua presenza e questa poi diventerà abbondanza per tutti per tanti anche per chi nemmeno mettiamo in considerazione o in conto